La corretta esposizione è uno dei fattori più importanti per ottenere filmati e foto di alta qualità con il Mini 4 Pro o altri droni. In questo video mostrerò tutto quello che bisogna sapere per esporre correttamente. Le tecniche e gli strumenti per l'esposizione sono sostanzialmente gli stessi sia per video che per foto. Nel caso delle foto le cose sono molto più semplici per diversi motivi. Con immagini fisse abbiamo una latitudine di scelta molto più ampia per il valore di velocità dell'otturatore mentre con i video non possiamo utilizzare un valore inferiore alla frequenza di fotogrammi utilizzata. Ad esempio, quando si riprendono video con una frequenza di 24 fotogrammi al secondo non è possibile utilizzare un valore inferiore a un venticinquesimo di secondo. Inoltre con il video in determinate condizioni dovremmo cercare di rispettare la regola dei 180 gradi mantenendo un certo rapporto tra la velocità dell'otturatore e la frequenza di fotogrammi come spiegherò più avanti. Quando si gira un video bisogna considerare anche le possibili variazioni di luminosità durante il clip mentre per le foto questo ovviamente non è un problema. Per ottenere i migliori risultati il fattore di rallungo più importante è la scelta delle condizioni di luce. Le ore centrali di una giornata soleggiata sono da evitare a tutti i costi poiché le ombre sono estremamente dure e il contrasto troppo forte. Ci sono buone ragioni per le quali si dice che queste siano le ore in cui fotografi e videografi dormono. Per secoli pittori e fotografi hanno cercato di controllare la qualità della luce nei loro studi scegliendo con attenzione la posizione delle finestre e la distanza delle pareti che fungevano da riflettori di luce. In tempi più recenti riflettori e diffusori sono ampiamente utilizzati per due scopi evitare luci troppo forti e ottenere ombre quanto più morbide possibile. Ottime condizioni di luce per video e foto si hanno nelle due ore attorno all'alba o al tramonto quelle conosciute come golden hour e blue hour. Un'altra possibilità è quando il sole è coperto dalle nuvole che agiscono come un enorme diffusore. L'idea è di ridurre la gamba dinamica e avere una differenza ridotta di luminosità tra luci e ombre. Il momento che preferisco è circa mezz'ora dopo il tramonto con l'ultimo crepuscolo che fugge da luce di dissolvenza e le luci artificiali come fonte principale. L'istogramma è l'unico strumento che utilizzo per esporre. Ci dice molto sulle condizioni di luce di una scena. Quando le barre toccano il bordo destro l'immagine risulterà sovraesposta. Questo è da evitare assolutamente poiché le luci bruciate non possono essere recuperate durante l'editing. Per questo motivo mi assicuro sempre di lasciare uno spazio tra l'ultima barra a destra e il bordo destro dell'istogramma in maniera da preservare le luci. Quando alcune barre toccano il bordo sinistro dell'istogramma le ombre saranno scure ma sarà possibile recuperarle durante la post-elaborazione fino a un certo punto. Se molte barre sono raggruppate contro il bordo sinistro a questo punto le ombre saranno troppo scure, conterranno meno informazioni e sarà difficile o impossibile recuperarle. Quando l'istogramma presenta la maggior parte delle barre verso il centro e ci sono degli spazi vuoti sia a destra che a sinistra, l'immagine ha poco contrasto. Queste sono le condizioni più facili per una corretta esposizione e corrispondono alle ore migliori della giornata menzionate prima. Sarà in seguito semplice aggiungere un po' di contrasto durante l'editing per ottenere risultati eccellenti. Quando le barre toccano sia il lato destro che quello sinistro dell'istogramma, si tratta di una scena ad alta gamma dinamica, nella maggior parte dei casi contenenti il cielo e con la fotocamera puntata in direzione del sole. Queste sono le situazioni più difficili. Si consiglia di nuovo di lasciare un po' di spazio a destra dall'istogramma per preservare le luci alte. Le ombre saranno molto scure, ma in molte occasioni sarà possibile recuperarle, almeno parzialmente, anche se sarà necessaria un'epostalubrazione molto avanzata. Questo è il motivo per cui si suggerisce ai principianti di evitare di riprendere filmati o foto in direzioni del sole. Un'alternativa possibile è quella di preservare le luci alte e lasciare gli elementi a terra come una silhouette, che può creare a volte un effetto interessante. Nella scheda a camera delle impostazioni c'è un altro strumento per facilitare l'esposizione, overexposure warning. Funziona sovrapponendo strisce diagonali, bianche e nere, alle parti sovraesposte di una scena. Non lo uso mai, perché trovo che distrae. Una piccola icona in basso a destra dello schermo alterna tra esposizione automatica e manuale. In auto l'esposizione è impostata dal software. Possiamo accedere soltanto al valore IV per regolare la luminosità generale. Trovo che il software tenda a sovraesporre leggermente, quindi preferisco impostare il valore su meno 0,3. Quando la videocamera si sposta, i valori vengono modificati automaticamente per mantenere una luminosità costante, ma i singoli valori di ISO e velocità dell'otturatore non sono visibili. I principianti generalmente iniziano utilizzando esposizione automatica. Tuttavia ci sono due ragioni principali per cui è meglio abituarsi a riprendere sempre con esposizione manuale. Con l'esposizione automatica per video, se la luminosità complessiva della scena cambia, il software lo rileverà e modificerà il valore dell'esposizione. Questo porterà a uno spostamento progressivo nella luminosità del clip, segno evidente di riprese amatoriali. Per motivi simili suggerisco di utilizzare sempre il bilanciamento del bianco manuale per i video, poiché in modalità auto le differenze di luminosità all'interno di un clip causano variazioni di colori. Un'altra ragione per utilizzare l'esposizione manuale è il controllo dei parametri individuali di esposizione. I videografi professionisti preferiscono utilizzare una velocità dell'otturatore specifica in base al frame rate del progetto. Un cinquantesimo di secondo con un frame rate di 24-25 fotogrammi al secondo. Oppure un sessantesimo con 30 fotogrammi al secondo. Questa è nota come regola dei 180 gradi ed è più importante quando si filma vicino al suolo o quando la scena contiene elementi in movimento, per ottimizzare il motion blur. Per saperne di più sul motion blur fate riferimento al mio video specifico cliccando sul collegamento allo schermo. Ma quando si riprende un video di paesaggi con un drone da alta quota e senza elementi in movimento, la regola dei 180 gradi può essere in gran parte ignorata. Toccando l'icona a destra accediamo alla modalità manuale, detta anche PRO. Poi toccando l'area dei valori leggermente a sinistra accediamo alla finestra per l'esposizione. Il Mini 4 Pro ha un'apertura fissa, quindi gli unici valori che possiamo selezionare sono ISO e velocità dell'otturatore. Possiamo impostare questi valori in maniera indipendente. Il valore MM in basso non è modificabile. Visualizza la luminosità risultante dai valori scelti sopra rispetto all'esposizione ottimale calcolata dal software. Previsco vedere un valore leggermente negativo per evitare sovraesposizione. E' preferibile impostare la ISO al valore base, 100, per ottenere la migliore qualità quando possibile. Ma il Mini 4 Pro può gestire valori ISO fino a 400 senza una notevole perdita di qualità, quindi abbiamo un po' di margine con cui giocare. Per mantenere un valore specifico di velocità dell'otturatore con diverse condizioni di luce sono necessari i filtri ND. Troverete dettagli su come e quando utilizzarvi cliccando sul link allo schermo. Nella descrizione troverete un link sui filtri ND che consiglio di utilizzare. Nella finestra di esposizione sono presenti due pulsanti AUTO per ISO e velocità dell'otturatore. Quindi è possibile impostare uno dei due su AUTO. Diciamo che vogliamo un valore fisso per ISO, 100, per ottenere la migliore qualità possibile. Quindi impostiamo ISO su 100 e la velocità dell'otturatore su AUTO. Al variare la luminosità soltanto il valore della velocità dell'otturatore cambierà per mantenere la luminosità corretta, lasciando l'ISO a 100. Notare che il valore MM è diventato EV per valore di esposizione e può essere modificato. Se invece vogliamo controllare la velocità dell'otturatore, selezioniamo il valore desiderato e impostiamo l'ISO su AUTO. E questa volta all'aumentare o diminuire della luminosità varierà soltanto il valore ISO. Possiamo anche scegliere di impostare entrambi i valori su AUTO, il che è molto simile all'esposizione automatica, ma presenta il vantaggio di visualizzare i valori individuali di ISO e velocità dell'otturatore. Quando si scattano foto è disponibile un'opzione in più per facilitare l'esposizione. Il braticating è automatico dell'esposizione per effettuare 7 scatti in rapida successione con diversi valori di esposizione. È una sorta di assicurazione, poiché una delle 7 immagini sarà perfettamente esposta. Immagini ad alta dinamica scattate in direzione del sole possono essere messe insieme in un merge to HDR utilizzando un programma di editing. Con questa tecnica le luci verranno prese dall'immagine più scura e le ombre da quella più luminosa, riducendo così la gamma dinamica della foto risultante. Il programma che utilizzo per elaborare le immagini fisse e mettere le foto in HDR è Luminar Neo. Potete guardare il mio video a riguardo cliccando il link sullo schermo. Troverete informazioni sul Luminar Neo nella descrizione insieme ad un coupon per uno sconto. Clicchete su questo link per guardare il mio video sulla qualità delle riprese effettuate con il Mini 4 Pro e non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante. Grazie